Laudato sì e disarmo Il tema della pace e del rifiuto della violenza è strettamente connesso al tema della riconversione ecologica e della lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Questa riflessione è centrale in quello straordinario regalo che ci ha fatto Papa Francesco con l'enciclica Laudato sì, un vero impianto di dottrina sociale della Chiesa. La custodia del creato, la nostra casa comune, riguarda l'affermazione della pace e della giustizia, il superamento del capitalismo estrativista, delle multinazionali, del paradigma tecnocratico. Una riflessione che è anche il cardine dell'esperienza di reti della carità, questo insieme di realtà di tutto il territorio nazionale, nato nel 2013 proprio nella sede di Paschristi a Firenze, con l'obiettivo di sollecitare il libero confronto tra le diverse espressioni del mondo cattolico e non, tutte impegnate in modo concreto sui terreni della carità, della giustizia e della pace, e che si sono sentite interpellate da quel pungolo di Papa Francesco, la Chiesa non è una ONG. Il momento che stiamo vivendo è di una gravità inedita e inaudita. Nella preghiera speciale per l'emergenza sanitaria, il Papa ha detto «In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai Tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito in perterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Da questo richiamo dobbiamo riuscire a intravedere che non si esce da questa crisi come prima. Vanno ribaltati continuamente i progetti e i percorsi. Dico spesso, ad esempio, che dobbiamo cominciare a praticare una nuova economia. Le nostre esperienze di piccolo commercio eco, di stili di vita sostenibili, non devono più essere considerati solo una buona testimonianza, ma bisogna capire profondamente che sono i punti di partenza strategici per una nuova visione di economia e di relazioni sociali. L'attenzione agli stili di vita è un elemento fondamentale e che arriva anche alla capacità di trattenere dentro di sé una spiritualità profonda, che è quella delle relazioni umane, del vedere una prossimità di fraternità e di socialità. Ti aspetto un cambiamento radicale ed epocale. Non si tratta di piccoli aggiustamenti. Non dobbiamo riassorbire tutto dentro alla normalità di prima. Non è una crisi economica da ristrutturare recuperando i profitti, quelli persi. No. L'energia straordinaria che può nascere da questa crisi, che ci fa versare lacrime, vivere paure e preoccupazioni, va immessa dentro una nuova visione di economia, con una dinamica di apertura. La distanza sociale deve diventare capacità di riflettere interiormente. Va tradotto in una nuova visione della persona, in una nuova spiritualità. Deve essere un'energia culturale e spirituale, che deve lasciare tracce anche nella politica, e che diventa soprattutto una nuova visione ecologica, di un impegno concreto per la pace. Non sono un appendice di buone osservazioni, ma il punto essenziale da cui partire. In questa fase di crisi abbiamo trovato la straordinaria solidarietà di tutti, per l'esempio di figure professionali, come medici e infermieri. Abbiamo condiviso nuove regole e ordinanze di tutela della salute. Poi ci si accorge che la chiusura delle fabbriche, come ho denunciato la campagna Sbilanciamoci, non ha riguardato la chiusura delle fabbriche di armi. Perché in questo periodo di crisi e preoccupazioni, non solo non si parla di ridurre gli armamenti, ma addirittura la loro produzione viene messa sullo stesso piano di quelle essenziali? Dobbiamo cogliere questa visione di fraternità, che sta emergendo, per combattere contro un virus, per andare oltre tutte le chiusure egoistiche, contro l'impianto di un capitalismo fondato sull'io, sul profitto e sulla violenza. Rovesciamo la prospettiva, si smette di dire che è tutto ideologia. Non lo è perché immettiamo la cultura della non-violenza, della tenerezza, della capacità di suscitare energia nuova. Dire no agli armamenti, riconvertire l'industria delle armi in istituzioni pacifiche, affermare una diplomazia mondiale che insista sulla radicalità del tema della pace, anche come costume di vita, sono tutte questioni da preparare dentro questa crisi drammatica che stiamo vivendo. In queste macerie che ci lascia il virus quando sarà sconfitto e ridotto dalla sua potenza aggressiva, dovremo non solo dire che non sarà come prima, ma far sì che la cultura di pace, il sognare il rifiuto della guerra, così come una cultura della salute non ridotta a mercato prestazionistico, ma per una migliore sanità pubblica, l'accesso a energie più pulite, la difesa dei beni comuni, l'accesso universale all'acqua, potremmo continuare con l'elenco, non solo sono utopie che scaldano i sentimenti e non incidono socialmente, ma punti di partenza vincolanti per un'umanità che vuole ancora scorgere e scoprire il sorgere del sole. Grazie a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.